Investire nell'istruzione e nella formazione professionale con una serie di interventi contro la dispersione scolastica, la Regione Puglia, nell'ambito della strategia nazionale area interna Monti Dauni, ha pubblicato sul suo bollettino ufficiale l'avviso relativo all'offerta formativa di istruzione e formazione professionale che prevede 455 mila euro da destinare esclusivamente agli enti di formazione che operano nell'area dei Monti Dauni. per l'attuazione di un corso di istruzione e formazione professionale. Possono essere ammessi alla presentazione dei progetti per l'area dei Monti Dauni i soggetti e gli organismi formativi inseriti nell'elenco regionale. Si tratta di percorsi didattici per il conseguimento della qualifica professionale rivolte ai giovani residenti nei 29 comuni dei Monti Dauni che alla fine della scuola secondaria di primo grado decidono di proseguire i propri studi nel campo della formazione professionale. Questi corsi, spiega il coordinatore di SNAI Monti Dauni, Michele Dedda, si stanno dimostrando uno strumento realmente valido di contrasto alla dispersione scolastica e allo spopolamento dei nostri comuni e spesso ricoprono una funzione di luogo di recupero dei fuoriusciti dal sistema dell'istruzione scolastica.